benvenuti in questo mio nuovo video andiamo a vedere dove trovare il fortbyte numero 34 si trova esattamente qui guardate lo prendiamo abbiamo finito fortbyte 34 preso comunque il video finisce qua mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su fortnite lascia mi piace per supportarmi commenti e condividi noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi